Buonasera a tutti, ben ritrovati sul canale. Questo video sarà riguardante l'amore, andremo a vedere se la persona alla quale state pensando pensa a voi che cosa prova, che cosa pensa nei vostri confronti. Vi ricordo che questo sarà un video di teologia evolutiva per cui probabilmente ciò che sentirete vi aiuterà a comprendere qualcosa di più di voi, più che dell'altra persona. Quindi andremo a vedere la vostra energia soprattutto e poi l'energia della persona che state chiedendo come semplicemente un'energia che ruota intorno a voi. Quindi perché questa persona è arrivata nella vostra vita potrebbe essere una risposta che riceverete oppure perché avete incontrato questa persona, che cosa questa persona deve portare a voi come insegnamento. Se le cose stanno andando bene vi diranno magari perché questa persona è arrivata nella vostra vita come scopo animico. Se invece le cose stanno andando non tanto bene, magari è una lezione karmica, vi diranno che cosa significa e come potete affrontarla. Per cui questo video spero possa aiutarvi a più che altro evolvere parlando dell'argomento del quale avete chiesto. Ho preparato due mazzi di carte, ve li mostro. Abbiamo due pietre. La prima è un'ematite. E invece la seconda è un quarzo nero fumè. Queste sono le due pietre e ci sono due mazzi di tarocchi differenti, dopodiché andremo anche a utilizzare degli oracoli e degli altri mazzi di tarocchi eventualmente per chiarire. Vi chiedo di farvi guidare dall'intuizione per prendere questa decisione. Credo che solo un mazzo in questo caso vi darà la risposta. O comunque parlerà di una persona specifica che adesso è nella vostra energia. Per cui partiamo subito. Vi ricordo che potete trovarmi anche su Instagram, trovate il link nella descrizione del canale. E poi vi ricordo che sul mio canale ci sono tantissimi altri video, tutti quanti senza tempo, che potete vedere per avere altre risposte. Partiamo subito con la variante numero uno. Ciao variante uno. Tu hai scelto le matite, questa è la tua pietra. Andiamo a vedere che cosa deve dirti la stesa. Che cosa deve dirti innanzitutto questo mazzo di tarocchi. Quindi andiamo a vedere quali sono le energie riguardanti questo collegamento animico che hai con questa persona da quale hai chiesto. Quindi qual è l'energia di questa relazione. Qua potete avere chiesto di un amico, di un parente, di una persona in ambito affettivo, amoroso, romantico, sentimentale, di un collega di lavoro. Credo che per molti qual'energia sarà proprio qualcosa di romantico, però non è detto. Insomma, quindi prendete come risuona. Allora, vediamo un po'. Che cosa devi sapere riguardo a questa persona? Abbiamo la carta di transition che sta al contrario. Che cosa devi sapere? Abbiamo la carta di reunion che sta al contrario. Cos'altro devi sapere? Si sono girate due carte che sono happiness, sempre al contrario. E poi la carta della volpe, che sono sempre al contrario. Molti mi dicono, non hai girato il mazzo nel modo giusto, no. Vi assicuro che le carte sono mischiate sia dritte che al contrario. Semplicemente mi comunicano quello che devono comunicarmi. Le carte si possono leggere anche al contrario, per chi non lo sapesse. Infatti questa è dritta. Abbiamo la carta di abbondanza. Lo ricordo per chi magari si potrebbe spaventare o, insomma, avere un attimo di incertezza. Abbiamo la carta di abbondanza, all'affondo della stesa. Allora, direi di chiedere poi delle altre carte successivamente per andare a chiarire questa cosa. Volevo guardare sul fondo del mazzo. Allora, sul fondo del mazzo abbiamo dei foundation of life. Questa persona potrebbe essere arrivata nella vostra vita perché doveva insegnarvi o deve insegnarvi delle lezioni veramente importanti. Questa lezione ha a che fare con la vostra essenza animica. Allora, questo è un incontro molto importante. Potreste avere avvertito questa importanza. Nel senso che potreste avere sentito l'entità di questa riunione, questo incontro che avete avuto con questa persona. Questa persona è qualcuno che in qualche modo vi porta verso l'abbondanza. Però mette in luce tutti quanti i vostri aspetti ombra. Questa persona non è perfetta ma vi fa notare quelle che sono le vostre zone ombra, che non sono ancora state guarite. Quindi potrebbe essere molto complicato questo rapporto perché quello che vi mostra questa persona è letteralmente quello che va guarito dentro di voi. Ovviamente se non avete avuto la possibilità di guarirlo potrebbe essere che abbiate sofferto perché non c'è stato modo per voi di comprendere queste lezioni. Qui abbiamo a che fare con un rapporto che potrebbe essere stato distrutto, potrebbe essere terminato già per qualcosa che purtroppo è stato incompreso. Quindi c'è stata qualche incomprensione tra voi e questa persona. Credo che voi abbiate agito in maniera che questa persona non ha compreso o viceversa. Potrebbe essere che le vostre energie si specchino anche molto qua perché questa persona ha letteralmente cercato di ricucire il vostro rapporto molte volte, lo potreste avere fatto anche voi, però io vedo che qui le ombre di entrambi potrebbero avere giocato dei brutti scherzi. Quindi a noi interessa voi, quindi come vi sentite voi, cosa dovete fare voi nel vostro percorso animico. Questa persona avrà il proprio. Vedo che l'unico insegnamento che questa persona vi doveva dare è questo, ovvero di ritrovare la vostra parte di anima che magari era seppellita sotto un sacco di ferite, quindi vedere tutte queste ferite è il primo passo e vedere tutte queste ferite potrebbe essere stato particolarmente doloroso. Però vedo che ne vale la pena perché è come se fosse... Ecco, vi faccio un esempio, spero che possa essere comprensibile. È come se questa persona fosse connessa con il vostro seppi profondo, quindi vedesse il vostro potenziale e volesse che voi diventaste il vostro maggior potenziale. Ovviamente questa cosa non è semplice, però vedo che questa persona in realtà ama ciò che voi siete profondamente. Semplicemente non ha preso molto in simpatia quelle parti di voi che potrebbero essere parti ferite e che quindi potrebbero agire in maniera danneggiata o in maniera a volte non tanto positiva o tanto sana. Quindi questo è il problema, ok? Spero di essermi spiegata. Allora, con la carta di, tra l'altro, happiness al contrario, questa è una persona che vi ha mostrato che cos'è la gioia, vi ha mostrato che cos'è la felicità e vi ha mostrato anche che cos'è il sentirsi parte di qualcosa. C'è la carta di abundance al fondo della stesa, quindi in qualche modo questa persona vi mostra che l'unico modo per essere nell'abbondanza è quello di sentirsi parte di un qualcosa. Questa è una persona che potrebbe anche far parte del vostro gruppo di amici o comunque avervi mostrato che l'amicizia è importante. Per alcuni si tratta di una persona che potrebbe aver avuto una storia romantica con voi ma poi essersi mostrata in realtà come un amico. Nel senso, questa persona forse vi ha dato di più come amicizia che non come una relazione romantica. Vi vuole genuinamente bene questa persona e forse sarebbe stato più appropriato un rapporto di amicizia rispetto a un rapporto di amore. Proprio perché questa persona per voi rappresenta il focolare domestico, rappresenta non tanto il focolare domestico come coppia ma come famiglia. Qua potrebbe anche essere un membro della famiglia per alcuni infatti perché l'energia è quella. Quegli amici che sanno di famiglia, quegli amici che fanno sentire a casa. Quindi questa è una persona che veramente vi ha mostrato che questo esiste in qualche modo. E credo che la lezione per voi da imparare sia proprio questa. Il fatto che molte persone possono in realtà regalarvi qualcosa che va oltre all'amore. Molto più grande dell'amore. Quindi se alcuni di voi potrebbero avere avuto una relazione con questo individuo però poi aver notato che le cose non fossero, insomma, non fosse quello l'intento della relazione, non fosse quello l'intento dell'incontro tra voi, potrebbero esserci rimasti molto male. Ma in realtà l'universo voleva dirvi che questa persona è arrivata a mostrarvi qualcos'altro. E questo è il caso in cui magari voi e un amico abbiate avuto una storia d'amore prima di scoprire che forse, cioè insomma, siete caduti nell'attrazione reciproca e poi abbiate scoperto che il reale legame animico che c'è tra voi è quello di amicizia. Quindi è quello di persone che si comprendono profondamente e che non hanno necessariamente bisogno di avere un'interazione sessuale. Spero di essermi spiegata. È una cosa abbastanza complicata. Però forse avete compreso che in realtà questa persona e voi potete darvi di più stando in un rapporto di amicizia animicamente che non condividendo una coppia. Forse le cose di coppia non funzionavano tra di voi. E quindi avete scoperto che i rapporti si possono trasformare e che in realtà ogni rapporto ha una sua natura. Quindi è quasi sbagliato andare a forzare un rapporto a diventare qualcosa che in realtà non è. Ecco, voi grazie a questo rapporto avete imparato a comprendere che se incontrate una persona la sensazione che avete sarà quella che poi dovrà guidarvi nel rapporto. Quindi se avete una sensazione di amicizia verso quella persona non è detto che non possa mai trasformarsi in amore oppure se avete una sensazione di attrazione verso quella persona non è detto che quella persona non possa diventare un grande amico o una grande amica o addirittura costituire una sorta di famiglia per voi. Quindi questo è quello che questa persona vi ha insegnato. Vi mostro, ripeto, tutti gli aspetti ombra perché molti di voi potrebbero aver avuto a che fare con l'attaccamento con un po' il fantasma dell'ego anche della possessività della gelosia tutti questi fantasmi sono messi alla luce da questo rapporto quindi è molto difficile questa interazione. Però vedo che l'universo grazie a questo incontro ha voluto veramente insegnarvi una lezione importantissima. Per quelli di voi che hanno problemi nella famiglia di origine magari non si sentono supportati dalla propria famiglia o cose di questo genere questa è proprio una sorta di comunicazione da parte dell'universo per voi tramite questa persona il fatto che non dobbiate semplicemente fare conto sulla vostra famiglia di sangue perché ci sono tante altre persone che possono costituire una famiglia the chosen family possono creare una famiglia di supporto molto molto più di supporto rispetto a magari quella che è stata la vostra famiglia di sangue quindi questo è un insegnamento per farvi notare che potete trovare il vostro posto nel mondo anche magari dove non avreste mai immaginato vediamo adesso di avere degli oracoli per voi che cosa devono ascoltare le persone che hanno scelto la variante numero 1 cosa devono ascoltare? abbiamo la carta di midwife cosa devono ascoltare le persone che hanno scelto la variante numero 1 abbiamo la carta di moon magic phases questo potrebbe essere un rapporto ciclico tra voi e tra l'altro abbiamo the secret sites intensification questo potrebbe essere un rapporto ciclico che diciamo costantemente tende a intensificarsi man mano che i cicli hanno luogo allora mi arrivano degli altri messaggi per alcuni di voi che però saranno molto tosti quindi se volete fermarvi qua con la lettura potete farlo però volevo dirvi che tra l'altro ho intenzione di iniziare a fare letture che mettano in luce anche le vostre problematiche riguardo magari a degli errori che avete fatto eccetera perché non ci si può aspettare di ricevere sempre gratificazioni dalle letture quindi a volte potrebbe essere che non lo so come l'amico che vi dice guarda quella cosa lì lei è proprio sbagliata tu ok quindi non di sempre incolpare le altre persone ma se ci sono degli errori che avete fatto voi vorrei che le carte vi dicessero anche questo perché molto spesso vedo che vi danno dei messaggi molto belli molto positivi sono felice di questo però vorrei che vi dessero anche degli spunti di riflessione ovviamente non vuole essere una cosa negativa vuole essere uno spunto di crescita quindi questo è per esempio uno spunto di crescita di questo tipo quindi vi dico che potrebbe essere un po' particolare e intenso allora vedo una cosa questa persona vi ha mostrato che laddove voi agiate con la furbizia il calcolo, la strategia e non sto parlando di strategie che possono aiutarvi a creare qualcosa di positivo per voi o pianificazioni o altro ma parlo di strategie di manipolazione alcuni di voi hanno questa tendenza quindi potreste aver utilizzato una strategia di questo tipo per tirare questa persona verso di voi questo lo facciamo tutti a volte ovviamente quando siamo sofferenti, quando siamo tristi quando vogliamo qualcosa o qualcuno e non sappiamo come ottenere quello che vogliamo potremmo tendere a manipolare gli altri quindi questa persona vi ha mostrato che anche se avesse avuto un interesse nei vostri confronti o c'è come abbiamo visto un affetto un amore verso di voi le strategie e questo tipo di attitudine non è considerato qualcosa di positivo per quanto riguarda le relazioni affettive quindi per questo dicevo ha messo in luce tutte quante le vostre ferite e tutte quante le vostre parti da guarire perché lo stesso risultato sarebbe stato ottenuto senza utilizzare questo tipo di agire strategico quindi qua parliamo proprio di voi che state guardando il video e ovviamente se non vi sentite risuonare potrebbe essere che parlo della persona della quale avete chiesto però credo che per la maggior parte si tratti di voi perché questa è una lettura evolutiva quindi questa persona potrebbe essere arrivata per mostrarvi che in certi casi questo tipo di approccio può solamente rovinare di più le relazioni se ad esempio avete tenuto aperte più situazioni potrebbe essere accaduto che questa persona lo abbia scoperto magari perché l'universo ha voluto che questa persona lo scoprisse quindi proprio per sincronicità per casualità questa persona potrebbe avere parlato con l'altro o l'altra che stanno dentro al triangolo oppure potrebbe avere scoperto qualcosa dei messaggi, delle comunicazioni qualcosa del genere insomma quindi l'universo ha voluto che questa cosa venisse alla luce proprio perché voleva darvi una lezione ovviamente non una punizione ma vuole essere una lezione a imparare una lezione sul fatto che forse semplicemente cambiando approccio avreste ottenuto questa situazione molto molto più equilibrata quindi questa persona vi ha mostrato questa ferita questa è una ferita sulla quale lavorare se volete possiamo fare un video nel quale posso fare una lettura di carte possiamo andare a fondo sulla ferita e vedere come potete uscirne come potete cambiare il vostro modo di agire adesso nella realtà e come andare a curare quel bambino interiore che è stato traumatizzato e che forse non ha mai davvero ottenuto quello che voleva quando chiedeva qualcosa forse gli veniva sempre detto no da piccolo e quindi ha come imparato che deve rubare le cose che deve mentire o che deve manipolare o che deve trovare delle scorciatoie o delle strategie per ottenere le cose dalle persone quindi questa è la vostra ferita se volete possiamo andare a vederla con un video apposito fatelo sapere nei commenti un'altra cosa che questa persona ha portato alla luce è innanzitutto che la vostra felicità non sta negli altri ma sta dentro di voi quindi questa persona potrebbe avervi mostrato come dire quanto fosse importante stare da soli e non sto parlando necessariamente di coppia ma parlo anche proprio in generale come attitudine imparare a stare da soli imparare ad avere del tempo di qualità da soli con voi stessi questa persona potrebbe avervi indirizzato su quella via anche senza dirvelo magari semplicemente mostrandovi che quello che facevate in qualche modo non fosse giusto e quindi potrebbe avervi indirizzati a scoprire di più il vostro sentiero vedo che questa lezione non è stata appresa per alcuni perché forse non avete mai fatto davvero questa cosa molti di voi ad esempio potrebbero tendere a riempire il tempo con persone delle quali magari veramente non sono interessati oppure amici che non hanno gli stessi propri interessi o situazioni o passatempi o attività che non sono davvero ciò che vi fa sentire bene vi fa sentire appagati questa persona è arrivata per mostrarvi che quella non è la vostra vera natura e che per perseguire ciò che davvero amate l'unico modo che avete è quello di affrontare la solitudine in una prima istanza dopodiché ovviamente creerete ciò che volete quindi creerete la vostra vita la vita che preferite quindi avrete intorno persone con le vostre stesse passioni avrete il modo di fare qualcosa che veramente vi piace avrete persone che amate intorno che sono simili a voi quindi questa persona è arrivata a mostrarvi anche questo e potrebbe averlo fatto in modo molto doloroso quindi con il rifiuto con l'abbandono potrebbe avervi voltato le spalle o comunque potrebbe essersene andata e in qualche modo quindi avervi costretti a vedere questa cosa molti di voi non l'hanno vista subito e potrebbero avere dato la colpa a questa persona vedo che però in realtà non è detto che questa persona abbia avuto degli atteggiamenti giusti con voi perché per alcuni qua si tratta anche di qualcuno che potrebbe avervi non trattati proprio bene ecco con supporto per questa vostra problematica ma piuttosto ve l'ha fatto notare in maniera anche molto cruda quindi non sto giustificando il comportamento di quella persona come già detto sto guardando quello che è il vostro il vostro percorso evolutivo quindi perché cosa doveva mostrarvi questa persona perché l'universo ha portato questa persona nella vostra vita per mostrarvi che cosa questo è quello che doveva mostrarvi una parte di quello che doveva mostrarvi e vedo che come già detto precedentemente la cosa più importante e fondamentale era questa questa abbondanza questo calore che ripeto forse va cercato in persone con le quali costruire dei rapporti veramente solidi animici quindi di volere bene reciproco di amore veramente incondizionato e parlo anche di amicizie amicizie con le quali ci si sente a casa persone con le quali condividere le cose senza sentirsi in pericolo perché molti di voi potrebbero essere sentiti in pericolo anche proprio con la stessa famiglia d'origine quindi questa persona è arrivata per mostrarvi questo e mostrarvi che in realtà potete costruire un rapporto di fiducia e sentirvi al sicuro anche con persone esterne anche dalla vostra cerchia familiare o con persone che potrebbero essere molto di più nella vostra vita rispetto a quello che voi credete la carta di riunione al contrario mi dice che al momento non c'è la possibilità di una riunione forse perché siete in separazione e perché forse dovete ancora acquisire queste queste sorte di lezioni carmiche o comunque questi insegnamenti vanno acquisiti e questa persona in realtà sta facendo il suo percorso animico anch'essa per cui in qualche modo l'universo vi tiene separati perché questo possa essere compiuto il grande disegno dell'universo la carta di madewife mi parla del fatto che voi potreste avere adesso bisogno di concentrarvi sul prendervi cura di voi come questa mamma che rimbocca le coperte quindi il vostro compito in questo momento è essere la vostra stessa mamma sappiamo che abbiamo delle energie maschili interiori e anche femminili interiori quindi noi potremmo letteralmente essere il nostro stesso papà o la nostra stessa mamma specialmente se non abbiamo imparato come sia un genitore nel vero senso della parola quindi forse voi dovete rimparare come essere i vostri stessi genitori questo è un po' quello che è il vostro compito in questo momento moon magic ripeto è una cosa ciclica quindi sappiate che questa persona potrebbe tendere a tornare oppure questa situazione potrebbe tendere a ricrearsi qualora voi ne abbiate bisogno o comunque questa situazione anche con altre persone ne ho detto che sia questa l'universo vuole che voi imparate questa lezione perché questa è una delle lezioni più importanti della vostra vita se non la più importante per cui continuerò a portarvi persone che vi insegnano questa cosa la carta del 44 mi dice la stessa cosa mi dice che questo è orchestrato dall'alto è evoluto dall'alto e la carta di sacred size intensification mi dice che innanzitutto questa è come ho detto prima una relazione che si va a intensificare man mano e seconda cosa questa è una una situazione che si va a intensificare ancora di più se voi non imparate questa lezione quindi in momento in cui voi rifiutate di apprendere questa lezione l'universo intensifica il tutto affinché voi possiate impararlo questa è la variante numero uno spero davvero di esservi stata utile fatemelo sapere in un commento se vi va noi ci vediamo molto presto in un prossimo video io passo alla variante successiva ciao variante due eccoci qui tu hai scelto la seconda pietra ovvero il quarzo nero andiamo a vedere che cosa devono dirti le tue carte dei tarocchi allora che cosa dovete dire alle persone che hanno scelto la variante numero due cosa dovete dire alle persone della variante due vi pensa questa persona che cosa prova in questo momento abbiamo il cavaliere di bastoni cosa pensa questa persona in questo momento sono troppe carte cosa pensa 8 di bastoni al contrario poi re di spade 7 di bastoni e un altro 6 di bastoni al contrario ok persona molto particolare abbiamo un asso di denario al contrario direi che questa persona in realtà ha capito che forse con voi non c'è speranza arriva questa cosa secondo me qua questa persona potrebbe essersi comportata molto male con alcuni di voi e insomma sta capendo sta capendo che non c'è modo di in qualche modo non c'è modo di farvi non non siete manipolabili ecco questo è il sunto allora questa persona viene rappresentata al centro della stesa come un re di spade quindi in questo momento ha delle barriere molto alte nei vostri confronti vedo che c'è anche un set di di bastoni quindi questa persona dal punto di vista spirituale è molto connessa con voi credo che abbiate rappresentato qualcuno di importante e qualcuno che ha portato anche dei grossi insegnamenti non perché voi abbiate insegnato qualcosa a questa persona ma perché grazie alla situazione che è avvenuta e che ha visto questa persona purtroppo dover in qualche modo guardare i propri errori perché ripeto questa è una persona che potrebbe avere sbagliato molto con voi voi potreste averla rifiutata quindi vedo che questa persona purtroppo ha dovuto purtroppo per fortuna non lo so insomma ha dovuto guardarsi un po' addosso e capire dove stava sbagliando quali erano le problematiche insomma ha dovuto un po' guardarsi allo specchio fare un esame di coscienza la sua energia di base è quella del cavaliere di bastoni quindi questa è una persona molto impulsiva una persona con energia molto giovane e che è molto passionale una persona che tende anche a mettere la passionalità al primo posto o comunque come quello che sente dentro questa persona si muove con l'impeto vedo che questa cosa potrebbe avere portato questa persona allora questo è un lato del carattere di questa persona anche che potrebbe avere portato questo individuo a fare qualcosa di avventato allora non c'è un tre di spade non c'è un sette di spade però questa è una persona che per alcuni potrebbe aver dato diciamo troppo adito alla sua alla carne quindi potrebbe ecco una persona che potrebbe essere stata molto innamorata di voi però che magari ha ceduto a delle tentazioni quindi magari avevate un rapporto stabile questa persona potrebbe avere ceduto questa sua questa sua parte più istintuale il che non c'è nulla di male se la cosa fosse stata non ci sarebbe stato nulla di male se la cosa fosse stata detta quindi ci sono anche persone poliamorose persone che hanno la tendenza o l'esigenza ad avere più situazioni anche sessuali o situazioni di partner quindi in quel caso se ve l'avessi comunicato e voi fosse stati d'accordo sarebbe stato differente però vedo che questa persona potrebbe avere giocato un po' a fare dei giochi mentali cioè il re di spade questa persona non si è aperta non ha detto quello che provava non ha detto quello che pensava o quali fossero le sue esigenze perché pensava che forse voi sareste stati troppo rigidi non l'avreste accettata molti di voi vedo che hanno una mentalità piuttosto aperta e che probabilmente avrebbero semplicemente trovato una soluzione forse questa persona ha avuto dei partner precedenti che non avrebbero mai accettato una sua natura questa sua natura e quindi non ha voluto neanche a voi comunicare come si sentiva e in questo caso vedo che il problema è stato proprio questo quindi il mentire il fare le cose dietro le spalle insomma voi vi siete sentiti traditi ma vi siete più sentiti traditi dal fatto che questa cosa fosse stata fatta dietro le spalle che da il fatto che questa persona abbia questa natura perché voi amavate questa persona anche per questa sua natura era un aspetto molto bello per voi abbiamo l'otto di spade scusatemi di bastone al contrario quindi il sei di bastone al contrario quindi questa persona vedo che ha in realtà abbassato tutte quante le barriere verso di voi dentro di sé questa persona si sente vulnerabile con voi sa che potete vedere cosa c'è dentro questa persona quindi vedo che l'unica barriera che tiene alta è quella delle scelte è quella è come se questa persona avesse non avesse muri con voi ma volesse tenere delle cose nascoste segrete e quelle cose nascoste diventano altre persone e altri partner proprio perché appunto penso che quello sia l'unico modo per avere un suo spazio la carta dell'asso di denaro al contrario mi parla del fatto che questa persona vorrebbe tanto avere un nuovo inizio con voi ma ripeto in qualche modo non lo vede possibile perché sa che non cambia questo suo atteggiamento e sa che voi non siete più manipolabili quindi in qualche modo comprende che non può ottenere quello che vuole da voi spero di essermi spiegata vediamo adesso di avere degli oracoli allora che cosa devono ascoltare le persone che hanno scelto la variante numero 2 riguardo a l'individuo del quale hanno chiesto quello dovete ascoltare riguardo alla persona della quale avete chiesto oracoli abbiamo due oracoli il primo è quello di scrying divination e il secondo è quello di oracle knowledge allora entrambe le carte mi parlano del fatto che voi potreste avere fatto molta divinazione riguardo questa persona quindi avere visto tanti video interattivi avere fatto voi le carte o in qualche modo aver utilizzato le vostre abilità psichiche molti di voi non fanno le carte o comunque non hanno utilizzato quella abilità psichica con questa persona semplicemente voi siete in grado di leggere cosa c'è dentro questa persona e avete visto esattamente quale sono le sue problematiche ovvero questo questa è una persona che potenzialmente potrebbe anche essere positiva leale propositiva stimolante ma ha questa problematica nel nell'accettare una parte di sé e quindi di conseguenza a parte il fatto che si sente di dover nascondere qualcosa per poter esistere quindi questa persona tende a prendersi delle responsabilità laddove non tutte le parti di sé sono ben d'accordo quindi questo è il problema voi l'avete visto e vedo che c'è una parte di voi che è stata forse repressa per un periodo e che non voleva vedere queste problematiche per cui c'è una consapevolezza che voi avete acquisito in questa relazione e anche l'altra persona la carta del 28 e del 4 mi parla del fatto che forse questa relazione è stata mandata via dall'universo se non siete più in contatto per un bene maggiore ovvero il voto che voi possiate sviluppare un'abbondanza vera con persone equilibrate e con persone che sono completamente d'accordo con ciò che vogliono e che sanno ciò che vogliono quindi se ad esempio avete sofferto questa separazione le carte vi stanno dicendo che in realtà è buono per voi tra l'altro ho letto una scritta che sta proprio sopra il mio tavolo in questo momento che dice good for you e quindi vuol dire buon per te buon per te se questa relazione è terminata perché in realtà tu puoi avere qualcosa di molto ma molto più autentico questo è il risultato per la variante numero 2 spero davvero di esservi stata utile grazie per la visione fatemi sapere in un commento se vi va cosa avete scelto noi ci vediamo molto presto in un prossimo video e vi auguro una bellissima serata ciao ciao